Accordiamo qui con noi, Medi! Oh vai! No, 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 no! No, no, ci siamo in... Vai, vieni! Ma non lo so! Ma, aspetta che... Inchinatevi! Che grande! Che grande, che grande! Vieni qua, vieni qua! Ho una sede, arriva una sede adesso! Eccoci qua! Allora! Ti è piaciuta l'ola? Spacca, spacca! Ecco qua! Adesso si, arriva, arriva, tranquillo! Oh, madonna! Lui era già... Oh, madonna! Ma dove si mette sta roba? È la Champions League, bro! Vai, tienita la Champions League! Oh, ma non è ingombrante! Ma mettevano all'esterno, guarda, tranquillamente! Eccoci qua! Sento caldo questo cerino qua! Ma ti giochi a calcio? Ma quando non hai giocato a calcio? No, Ibro! Chiudi Ibro! Ah, ti hai riconosciuto per il naso! È per il naso! No, no, no! Cioè, giochi a calcio! Ma hai giocato tu in vita tua! Come? Ah, ok! Perché? Che ti sembra? Uno forte, eh? No! No, stai fermo! Noi perdo più i passi! Noi siamo forti, Fran! Aspetta! Dove che guardi che non hai capito? Puoi dire che fumo? Ma lui è abituato, eh! Non tossisci! Ormai è entrato nella scena lui! È troppo stile! Ma devi fiumare piano! Fiumare piano! Fiumare piano! Ho visto che fai live! Eh, sì! Faccio live! Ti invito! Ah, le live! Lo sai se lo sai! Lui adesso farà le olimpiadi salto dell'ostacolo! Ah, è simpatico! Perché sono caduto, eh! No, no! Ho visto qualche live! Hai visto che sono caduto? Ho visto che ha fatto sabato? Infatti quando venire i miei live, Fran! Mi fa piacere! Hai gritto! Vada e si resta! Chiedi una cosa insieme! Ah, i soldi! Abbiamo un accountable noi! No, no, no! Per il live! Noi abbiamo se... No, ma sentite anche la roba dell'EP, Fran! Ah! Quando vuoi la strofa! Ah! Eh, ma la mia strofa, Fran! È difficile! Possiamo dire... Lo sentite dell'EP? L'EP che abbiamo dentro! C'era Mambo? Anna? E poi vabbè un po' Arti! Ok! Tony Boy! Tony Boy! Ah, boh, sei messo bene! Sì, no, no! Un bel un altro! Comunque ti faccio vedere! Lui, durante i live, fa anche... Salta all'ostacolo! Vai, 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 vai! Vai, è simpatica, eh! Simpatica, eh! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! L'hai fatta a posto? No! Non è vero! 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 Non è vero che facciamo una partita di calcio! Eh, ma... Ma noi siamo... Gue? No, noi siamo forti! Io te lo giuro su mia mamma! Parola d'onore, te lo dico! Se vuoi fate una squadra, potete chiamare chi vuoi, eh! I tuoi amici, i calciatori, cose! Se vuoi mi battete... Io faccio la mia squadra da sette! Tu la tuoi da sette! So che sai giocare! Però se mi batti, te lo giuro su mia mamma, farà ti do mille euro! Però facciamo una regola! Però facciamo una regola! No coltelli, no pistole! Ma no! Ma no! No! Ma per chi l'hai preso, eh? No, in generale, dite! Ah, ok! Anche per noi! Anche per noi sono cattivi! Anche noi siamo cattivi! C'è la regola è quella! Noi abbiamo degli animali! C'è la regola è quella! 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 Lui è un forte feina! Dai, dai, dai! Dai, veloce! Ci sono tre pecore! Dodici cammelli! Uno è la mamma, eh! E le pecore! No! Te ne faccio io uno veloce! Qual è un animale che sta in tre posti contemporaneamente? Mia mamma! Perché? No, è... Ma mia mamma è un... È un fa-cosero! Non lo so! No, aspetta, non lo so sinceramente! Dimmi tre! Un animale che sta in tre posti contemporaneamente! Vediamo! Questo non so neanche i visci! Ah, ok! Quindi è sia sulla terra che sul mare! Un animale che sta in tre posti contemporaneamente! Ma è un animale? L'animale? È un animale, non so cosa è un animale! Che è un animale che fa sott'acqua? L'aquila! Ma è che f***o? Ma che sei? Perché? È là, qui è là! Eh, c'è... Va bene, ma sei... Eh! Vai, fammi una terra, vai! È mai una terra! Quanti mesi ha 28 giorni? Febbraio! Quanti mesi... Framo io non son bravo a scuocciare! No, quanti mesi ha 28 giorni? Quanti mesi ha 28 giorni? Febbraio! Quanti mesi ha 28 giorni? Non si può! BASTA! Facciamo entrare una ragazza nel mentre, ok? È una ragazza che... Facciamo entrare una mia cara amica Perché ci sarà un piccolo allenamento adesso E ci andiamo a cambiare noi adesso Poi dopo che entra l'amica, entrerà con un coach di box Quindi siamo pronti a fare box Bello, bello, bello Spacco la faccia Non diti, non è quello che... È notte il c***o! È notte il c***o! Vai, vieni con noi Alice! Ciao! Eccoci qua! Vieni qua, vieni qua! Allora, noi adesso... Facciamo entrare anche il coach Allora... No, no, non è lei la coach Facciamo entrare un coach Facciamolo entrare, vieni pure qui con noi Eccolo qui! Il coach di box! Un applauso! Un applauso! Eccoci qua! Allora... Allora, noi Alice adesso... Un attimo quando ria Noi ci andiamo a cambiare ragazzi, ok? Arriviamo subito che ci prepariamo Aspetta aspetta, prima facciamo come si dice... Occhio che c'è un po' quando fai... Com'è che... Come si chiama quando ti incontri con l'avversario? Fai... Face face! Pezzo di me! Ma cosa farlo dopo vestiti? No, vestiti, vestiti lo facciamo! Tu lo fai con lui, io con lui fra... Face face! Vieni, qui davanti! Tu con lui, io con lui! Non ci si può toccare, vero? Non ci si può toccare! No! Ok, ride bene schiaffi! Fate prima, fate prima, vai! Aspetta! Così, senza baciare! Oh, ma vi state baciando! Allora, vieni qua, vieni qua! Oh, mi perpe stupendo! Stanno tutti spaccolati! Ha riso, però ha riso! Ma Alice, vieni qua che ti bacia anch'io! Ma come? Boh! 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 Ah, e va! Ma dove c***a ha i pugni? Ma come c***a ha i pugni? Vabbè! Mi sei cercato! Non mi liberate dopo! Oh, oh! Spendiamo un'esercizio da fare a coppie! Ok, vai! E così vediamo cosa succede! Vai, faciamolo! Allora, lui ti metterà due ganci alti, e tu li scriverai in rotazione e rimetterai due ganci in una maglia! Ok, aspetta! Tipo, come funziona? Facciamo un esempio del lui! Questo deve sta così? Si, è il guinzaio, vediamo! Si, si, perché... Siamo affinzionati allo sul cane! Allora, guarda bene! Fu ti, fu ti! Guarda bene! Ok, scusa! Attenzione! Niente parola in gara, eh! Da qui, parte un gancio sinistro, lui va sotto in rotazione, poi parte il gancio destro, va sotto... Io faccio così, giù Jackie Chanio! Per favore! Vai sotto in rotazione e rimetti due ganci alti a lui! Guarda bene, che succede? Passi a partire la mia parte! E tu te lo stai in guardia qua! No, no! No, faccia la mia parte! Non puoi sbagliare! Quindi me lo tiri tu! Allora, così, così... No, questa... No, eh! Questa è la finita! Stiamo ammazzando forti, cazzo! Stiamo ammazzando la box, eh! No, no! Ma no, ci impegniamo! Ma no, ci impegniamo! Chat, il pugno! Guardami! Ok! Oh! Che c***o fa il Matrix? No! Scusa, però! Faccio vedere il mio sistema, guarda! Fanno simile un film! Metti un gancio! Ho capito! Bro, serio? Occhio! Prova, mettiammi un gancio, ti faccio delle rotazioni! Ah, ok! E poi vengo su e gli metto due ganci! Ah, così, così! No, qui con anch'io! Fammelo con il mio p***o! Dove capite che io faccio il p***o? Dai, pronti? No, però non devi fare il mio ganci! Uno, due, rimetti! Oh! Buono! C'è! C'è! Pronta? Oh! Anzati! Pro! Ma che c***o! Sì! 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 Adesso toccare batteri! Vai! Vai! Può pare che c***o chat! Adesso lui ti mette due ganci? Tu scrivi rotazione e rimetti due ganci alti! Sinistra prima, poi destra, ok! Ah, e teoricamente non dovresti saperlo! Oppa! Guarda come lo fate piano eh! Vi metti due ganci! Sì! Sì! Un principio! Lo siamo? No! È perfetto! Com'era? Si poteva fare meglio! Come l'ho incassato però? Bene eh! Bene! Basta che metti tutti su le mani! Non metti dietro il coach! Sono il suo allievo! Vai! Tu sei mancino? No! Cosa sei? Destro! E allora porta avanti la gamba sinistra! Posso portare? No! Fai quello che dice il coach! Così? Ok perfetto! Vedi? Sembri vero adesso! Sembri vero? Vero! Allora allunga il sinistro! Bravo! Allunga il destro! Perfetto! No! Allunga il c***o! Ok non puoi! C***o! Fai montante! Tutto sinistro! Non posso fare così! Destro! Gancio! Rotazione! Gancio! Cosa è successo? Eh allora! Verovamo! Pam! Tre montanti e un gancio! Pam! Si certo! Uno, due, tre! Ok! Destro e sinistro! Ok! 1, 2, 3! Gancio! 1, 2, 3! Gancio! Ok! A posto! Allora faccio visto! Pam! Pam! Ok! 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 Che voglio! Allora! 1, 2, 3! 4! Gianluca! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Gancio! Vai! Da c***o! Sotto! Pam! Ok! Oh! 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 Vai! Vai! Oh! Cosa Faccio io! Faccio io! Bo! Buh! Ho capito il gioco! Ho capito il gioco! Ho capito il gioco! Vai! Dai vediamo! Oh! Stars Vedi! Vedi! Noo, vedi! Stai fermo, vedi! Stai fermo, vedi! Stai fermo, vedi! Stai fermo! Stai fermo, prof! Non ti vedi se stai fermo, prof! E l'ho messo! Aspetta, questo è quello che fai un artista? Vedi passare davanti? Eh, puh bene! No prof! Non ti ho ucciso! Non ti ho ucciso, alza di questo! Si, siamo subito, a questo! A, adesso... la prima regola che non arriva un colpo così e buttare fuori il tempo dopo un po' ne dava un attimo a pausa devi mettere solo uno campione d'Italia ma questo ti ammazza il nostro ma perchè ancora non ho mai incontrato se ne prendi uno dopo non ci sei ta frango non ci siamo visto come hai detto noi siamo in tanti dai 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 questo è il suo pane quotidiano frate da dove vai vai dai no no oh come ti dico qua io non lo faccio adesso siamo qua vado nuovo giro nuovo regalo hai nato ultimo ultimissimo bravo 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 ditori è di queina ma dai go dai ragazzi bravo Penso che abbiamo messo nella suaamma La tua mefra sviene Però non so Però ha dato uno a lui forte Ma svengo Dai 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 forse Ricordati che ha a che fare con uno che non No 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 Ma la cosa è che si vicino Ma la cosa è che si avvicino Aspetta Dai 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 Ma menti che sbaglia prenderlo Il possibile è un cecchino devo tenere duro io? si, butta fuori l'aria vieni qui ma quando te lo tira devo tenere uno fisso per quanto? quando te lo tira fai... facciamo un giro di respiro, fa una corsetta hai capito? se uno tira e sono fuori tempo vuoi fare un tiro così mentre butti fuori in luci del colpo? magari potrebbe essere... secondo me così è meglio più sportivo ci sei? devo stare fermo così quindi ok ci siamo con l'addome tirato vai ma è stitico lui oh no 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 oh mi spezzi a me eh? oh no oh no oh no oh no baaah vieni qua vieni qua medi come si chiama il... Mokosenko no 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 Mokosenko Dico come ti chiami se qualcuno ti vuole contattare Io mi chiamo Francesco Papolo su Instagram Fimmi Papacenco Resto su tutti i ring, state attenti 13 aprile, taf Non mancate Una canzone? Novo spoiler, fanno uno spoiler della canzone Il 13 aprile Ringraziamo, grazie mille per il sapato di un giorno a noi Gentilissimi Grazie mille, grazie mille ragazzi Guarda qua Eh? Vedi, vedi? Che ma fai palestra? Eh sì Si vede? Ha senso, amore Eh? Ma tu, sai che l'altro giorno ho avuto l'attacco di panico per con Colpa di Anarghileio Perché? E perché ho fatto troppi tiri, non fumando Mi è rimasto, ho proprio intaccato il cervello Mi sono andato fumato Eh? Ah, è tenerifero Ah È buono È buono questo tenerifero? Meglio questo C'è Paolino che, lui vedi, Paolino È un nonno che fai mashup Ok Ok Arriva un sforzo di Paolino Oh, cos'hai detto? Ciao Ciao Matti Ciao Matti Una canzone, quella tua? Si, no, quella tua Dai Ho giudato il swissolino Arriva Alla switch? Ma Paolino, lo switch? Paolino Bro, è la il Bro Ma fammi uno spoiler che io non ho mai sentito quel tuo pezzo Non è il tuo mio pezzo? Dai, faglielo sentire Eh, questo è un pezzo nuovo, Alessi, vero? Quello nuovo che è uscito Però non l'hai pubblicato C'è no, ha fatto i risparti a San Siro Sì, è una settimana fa A San Siro? Sì, sì, a San Siro l'hai fatto Sì, sì, ho tutti Tre Ma io Purtroppo non, ma c'erano vicino a Stodout No, la canzone è bellissima Però, Fra, che c***o fai? Oh, ti hai detto che è bellissima Sono nel rosso e la c***o con la candida Nesco rosso pieno di sangue Anche se c'è la c***o pallida Fra, ma io non parlo bene italiano, Fra Questi incastri non li conosco, Fra Non vien da ridere, Fra Ti posso far vedere la Come fare, ziii? Ti posso far vedere la mia ragazza? Fra, c***o Un po' di processo in sé Alla tua di ragazza Prometti che ti piace Te la lascio Vuola Banks Cioè, potresti accettare il fatto che te la lascio Fattela, bro, sincero Perché vuoi vedere il profilo di Villa Banks? Ti sembra Villa Banks? Sì E questo è il narghile L'effetto del narghile, ragazzi, purtroppo C'è Aisy, c'è Aisy Mamma mia C'è tutto l'album La discografia di Aisy Aisy, quando viene Milano? Ma è stato Milano Ha fatto la serata adesso Bravo, eh Complimenti Non ti sentire nemmeno per vado qua Non ti sento sentire, non va bene Fullia Bravo, è Aisy, eh Bravo, complimenti No, non venire mai a salutare, eh Ah, ok, era un segreto, infatti Va bene Salutiamo Aisy Che era simile Aisy per averci salutato Allora, Miedi Facciamo così Cerchiamo di tempo alla prossima volta La prossima volta cosa facciamo? Tatuante Facciamo un torneo di ping pong Con quanti soldi? Fra, dimmi tu Cash però, eh Cash mettiamo Facciamo io, te, fube Torneo da quanto? Ma ping pong? Sì Fra, chiedi la cifra che vuoi 500 euro Però non parli, fra, facciamo serio Fatis, facendo la cifra che 5000 Con me vinci sempre Vuoi fare 2 contro 2? 2 contro 2 5000 euro Tu e fube contro me vinci Vai 5 bombe No, 5 Mille, mille, mille cash a testa Tu c'hai 2k e mezzo se vinciamo Mille, mille a testa Vabbè Mille a testa Mille a testa Sei forte? Sì Ma tu sta con me Non hai fube? Io so forte Vai Fatto La prossima volta lo facciamo ragazzi Mille, ti ringraziamo per essere passati con noi Grazie a voi Numero 1 Ci vuoi lasciare l'archileo o vuoi tenerlo te? Come vuoi? Dai, lascia Lascia, ce la vuoi Come vuoi fare? Così dentro? Ma poi mai Tu devi torna a Bologna? Sì Eh, in macchia Grazie mille, Mille Tanti cuori per Mille in chat Ringraziamo Sono stato gentilissimo Sono stato gentilissimo Grazie cuori per Mille Cuori per Mille Grazie mille Grazie mille Ciao Ci vediamo Ciao